Mister Fabio Di Rienzo, per la esegna successo importante a Spinete, adesso vi giocherete la finale playoff. Sì, chiudiamo questo campionato, 65 punti non sono pochi, un po' di amaro in bocca c'è perché fare 65 punti, non festeggiare eccellenza, ti lascia un po' di amaro in bocca. Diciamo che siete stati autori nel complesso comunque di una grande stagione, cosa secondo te è mancato per poter festeggiare? Io sono molto soddisfatto perché il dato più importante è che abbiamo raggiunto questo traguardo come migliore società nell'impiego giovani, quindi sfido chiunque a giocarsi un campionato con tanti giovani in campo, un premio che dà lustro alla società, sia economico che sia a livello d'immagine, da continuità al lavoro che si fa con le scuole calcio e quindi personalmente sono molto molto soddisfatto dal punto di vista dei punti, con i sec, con i ma non si fa calcio, naturalmente l'amaro in bocca nasce che bastava un punticino per festeggiare, nell'arco delle 30 partite qualche passo falso l'abbiamo fatto, però merito a tutti, merito anche agli avversari che hanno lottato fino alla fine, è stato un campionato bellissimo e ora ci giocheremo tutti in 90 minuti. L'obiettivo comunque sicuramente nel mirino, l'eccellenza, sarebbe un grandissimo traguardo. Sì, sarebbe un traguardo importantissimo perché come ho detto poc'anzi raggiungerlo come vincitrice del premio per l'impiego di più under rafforzerebbe questo risultato, poi se non dimentichiamo che la prima squadra di Sernia, Prodenza e Reddì, portando una seconda squadra in eccellenza, sarebbe lustro a tutta la provincia. Tornando un attimo a Spinete, è stata partita dura, l'avete risolta con l'esperienza, ci avete creduto e sono arrivati i tre punti. Sì, sapevo che comunque era una partita tosta, anzi faccio complimenti allo Spinete perché ha onorato il campionato fino alla fine, anche senza giocarsi nulla, ha lottato su ogni pallone fino alla fine, tanto prova di onestà, di serietà, anzi credo che sia da esempio per molte squadre che negli ultimi giornali magari possano scansarsi o altro, quindi merito a Spinete, hanno raggiunto ancora l'obiettivo e ora loro vanno in vacanza e a noi ci tocca lavorare ancora un po'. Grazie a tutti.